Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di reazione ai primi video degli youtubers italiani Oggi non sono da solo, il mio compagnia cemurri perché si trovava per caso da queste parti In realtà non è vero, siccome dopo aver registrato questo video ce l'avevo a casa E ho detto vabbè facciamoli insieme così sei contento Sono orato di essere nella serie più bella di YouTube Italia Vero? Che mi hai incolato con quelle di Instagram No Non è vero infatti L'hai incolato Cretino se tu metti questa parte ti staglio la cosa Ragazzi oggi abbiamo quattro youtuber come nostro solito ovvero Vegas Yes Che Vegas è? Yes Yes 889 Che tu apprezzi particolarmente mi dicono Sì ciao bro, un saluto a Marco Merino un bacino Giorgio Cappello di Paglia che McChosh apprezza particolarmente E poi Cutie Pie Marzia Che se anche non fa video in italiano è comunque un youtuber italiano Senta io lo ficcheremo più alla mente Esatto ecco perché c'è murri in questo video Tra l'altro non so se avevo già fatto Vegas ma non credo assolutamente Ho fatto tutti i mates di questo ne sono sicuro ma Vegas Ma Vegas non so Andiamo a vedere il primo video di Vegas Xbox One Titanfall Vediamo se non c'è la webcam lo schieppiamo come al nostro solito Non c'è una intro Minchia che era burra però E benvenuti in questa nuova serie dedicata al gaming Per chi non mi conosce Mi posso dire che comunque il gaming è stata la mia prima passione Ho avuto per molto tempo un canale su Twitch Che poi ho abbandonato E per un po' per mancanza di tempo Un po' per mancanza di giochi Su cui valesse comunque la pena giocare Diciamo Mi sono preso un periodo di paura Guarda comunque Voglio guardare Sì la parlantina ce l'aveva Non c'è la webcam voglio la webcam di Vegas Don da lamentesti la web Qui sento che c'è la webcam Sì lo sento Lo sento proprio Salve a tutti ragazzi prima di questo Nuovo video Oggi siamo su GTA 5 Siamo nella versione C'era più casato qua Cazzo Un vlog Ma cos'è? Se la guardi senza video Potrebbe essere tranquillamente un film forno Ah questa dentro me la ricordo Non c'è la webcam Perché? Quindi Vegas mi dispiace ma Niente Ti schippiamo No ti schippiamo no Però abbiamo visto almeno la voce Sentito la voce di Vegas Sì Sì È una bella intro Complimenti La prima intro è stata veramente fina Esatto Quella è l'89 Se tu sei un vero fan dovresti conoscerlo Io non conosco un cazzo Ovviamente Mi ricordo in primo video Farà che fosse quello contro Facebook O MSN MSN Minchia vediamo se è la verità Ooooo O Facebook o MSN Nooo Ah il secondo e il terzo però Secondo e il terzo Otto anni fa Interpretazione sigla Super Smash Brawl Che cazzo è questo? Paura un po' L'ho visto le interpretazioni Nella sigla di Brawl Su YouTube? L'ho visto a provare Enjoy Video del 22 agosto 2009 Forco 2 Ah l'ho visto Ah 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 Non lo so Dio A te da bombi escapa Madonna che foto Ma dai La, la, dei teletubbies Ma dove cazzo le fredde? Si cippo e ritornano sempre Pagio e sto morando Malato, malato proprio nel midollo since 2009 Mi piace anche un mi piace Troppo bello questo video Andiamo a vedere quello di Facebook A un sito bello No, no, mi serve la faccia Dov'è il mio tetrailer? Volevo sapere che Marco ha avuto un piccolo problema Con cultura, cultura di Silvia Ha avuto, diciamo, ha una piccola Un piccolo dissidio interiore Perché lui ama la foglia del te Alla pesca, ma tutti lo ritengono Una bevanda per bambini piccoli Infatti in un suo video su Facebook Tanto tempo fa Prendeva il te dal reparto bevande Diciamo analcoliche E lo metteva nel reparto superalcolici Per sentirsi un po' più uomo Fatta questa promessa vediamo Complimenti, non fa Ancora sarà fiero di te 6 dicembre 2010 Campi abbandonato Quello è senza mutande se vedi C'è il sito di star egg Vedi che quando cammina senza pantaloni Vedi? Si Madonna che emo Era un cazzo di emo Michia La voglia tetris Sai quello che t'ho fatto, vero? Come dimenticare? Anche io Rimembranza del passato probabilmente Beh, allora cosa vogliamo far? Logico! Logico! Ho paura che posso uscire adesso una attima di Tygon fa qualcosa Vendetta E anche Marco Merrino direi che ci ha abbastanza deliziato Andiamo su Giorgio Cappello di Paia Che anche lui è un malato tanto quanto, no? Cappello di Paia tipo 6 anni fa Ma non sarà mai il primo Quattro, infatti già è il quattro quello Avrebbe minato i primi tre Quarta puntata Nuova puntata Attenzione a me Attenzione Malato uguale Cioè, malato uguale La personalità Beh, se non lo sai Sono visto imparcare la faccia Più di tanto non me ne frega Queste che hanno detto ti fa Che pazzo è sempre malato di mente, cazzo Ma cosa fai? Con me ti ho patro spiatti E ti imbaratto la testa Sempre un pelino, ino, ino, ino Qualtizio delle scorse puntate Non devi se sbagli Perché lo sanno c'è stato qui Ti vedo troppo appassionato Non facevo Non facevo Io giuro, ho cercato di capire Che non c'era ancora appassionato Mi chiedi come era Ci vabbè Ah, questo me lo ricordo Cioè, malato Cioè, malato è stata stessa da sempre Mamma mia, ragazzi Tra l'altro perché c'è la sto logo OneChannel Ah, è finito Stai a futuro che ci sono i visiti di un padre Dalla casa di quel deficiente Mi fa un caldo assurdo Non so se resisterò E poi con i fondi che io Troverò qualche tempo di cazzo Oh, ma che figlio C'è un caldo E poi Ah 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 Credi Sono scioccato E' malato tanto quanto In chiamo questo video lo conosco Minecraft era dal mio punto di vista Beh, cinque anni fa quando Minecraft era in auge Ma è dal mio punto di vista non li fa ancora Andiamo in un po' di Gnagnara Oh Che così mori Putipi Marzia Putipi Marzia parla italiano tra l'altro Comunque, comunque non l'ho Cioè, non l'ho seguita Non la seguivo nemmeno Prima Quindi più ore di ora Ma ancora adesso la seguo Però sono curioso di vedere che faccia aveva Un po' di anni fa Che cazzo stai facendo? Che era in pioz Ah, questo me lo ricordo Come? Non la seguivi Però te lo ricordi No, me lo ricordo questo Perché fu il periodo in cui seguivo Pidopi Quindi seguivo tutto Io non lo so Tra l'altro Marzia La finanza dei Pidopi Se non si fosse capito 10 milioni di views Sta registrando tipo Sì Ma lo aspettavo molto più spaventoso Più tardi Lo stesso giorno Felix, come here, please What? Felix? 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 Yeah Ho paura Potrei farti spaventare Alla stessa maniera Sette milioni Sette milioni Di iscritti Iniziati così Esatto Ma qual è il tuo cazzo di cane? Ok, so I'm Puga-chan And apparently I need Oh, look at this Coins And apparently I need to save My under two dogs Che dire, non ho scioccato Cioè, non so perché mi ricorda il gioco Dove ce l'ho la 300 Ti ricordi? Ah, vero Quello che hai fatto Dexter Che era troppo bello Va bene ragazzi Direi che per questo video Posso essere tutto Come sempre vi lascio Un bel pollicione Tutto questo video Continuatemi qua sotto Nei commenti Quattro youtubers Da fare nel prossimo episodio Qualora ci andasse essere un altro Murray sta gattonando E vuole scappare Da Jumpy Tech è tutto E Ma ho mai reagito Al tuo primo video 15.000 like Andrò a vedere I primi video di Murray Che io li conosco tutti Però li guarderemo Li guarderemo insieme Jumpy Tech è tutto E ciao 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 Ciao